E' uguale o no? Oh! Porca troia! Il trilionale mi sta rompendo così. Si anche a me. E' alquanto ero io. Riccato perchè devi solo scappare. Quella però una volta era più. E ora beh. Però beh. Perché c'erano schifo. Dietro c'ho. Ti tolti. Stai sblocato? Si ma è un testo reato il piano. Testo reato. Forse è già fatto il piano lì. Ma sarà fatto di là. Per fare l'ascensione apri la porta con l'agente corrosivo. Quindi bisogna riparare l'ascensione. E bisogna. Trova la chiave e la metti. Bisogna girar qui. Bisogna vedere com'è. Bisogna vedere cosa si fa qua. Nella scala qui cosa c'è? Già. Con l'agente corrosivo. Intanto con l'agente corrosivo si può avvi quella la giù. Cia maiale. Cia per caso visto? Cia maiale. Cia maiale. Cia maiale. Cia maiale. Cia maiale. Piiip. Il cavo si è fuso del tutto. Ne avevamo uno lì insieme. Ma è stato usato per delle riparazioni dell'immimmaria in terzo piano. Stavo a chiedere al dottor Wedder, mi vuole una sala macchina, non posso scendere se non sistemiamo questa cosa, quindi vi andate a vedere, mi chiedo a te, ce l'ha scritto, dove era? 3, 3, 3, qui in terzo piano, bisogna andarci con l'ascensore, e ci vuole l'ascensore, l'ascensore, ce l'abbiamo, poi entri e vai dritto, Sì, ma, dobbiamo andare su? Cale quelle che abbiamo aperto Ma lì non ci si va? Forse lì c'è la chiave del capitano, se te l'hanno messa lì, guarda bellina Sì, vai, ti dico là No, per tutto Perché si trova di realtà Tanto per, no, per lo di là, tanto girava di là Ma ce n'è due Eh, ma girava di là, qui Eh, è già girato là Quindi vado di là Vai Che pizziaccio c'è lì a più tutte le due No E' una, papà Eh E' una bomba Strano Ma vai nel culo Attenzione Ah, divertente Oh, qui c'è un Inquisito Strada, dritto Tutto via Perché Alla Piuttosto sì Verde sopra Ma se fa così, dici? Ma che sarà Ma che sarà proprio una minchia Oh Vabbè Vabbè, poi mi aveste tutto No, vabbè Ma adesso Non ce lo metti Ti capisco No, vabbè No, vabbè No, vabbè No, vabbè Oh Tocala se ci fosse più a noi per te E la fuga? La fuga non è mai più facile Non c'è nulla a vita Questa staglia di Staglia di Staglia di La metto così per divertire Allora vado via No, se può stare troppo qui No, io andrei All'FB Quindi al secondo piano Certo Posso dalle scale Sì Siete sicuri? Non mai Una porta pronta È la foto ma era chiuda Era bloccata dall'altra Ma Se la vuoi provare Ad andare a fare una volata La devi sperire Sì Però ora Se te lo segui Lui ora Sì No, io Oh Questo lo volevo buttare O lo aggiri Scusa Muove piano Eh no Ma viene qui Può chiudere quella porta Si tira al tuo tavolo Che pionzo Non si chiude Vabbè Così Che pionzo Che bella vista Che bella vista Ah, anche adesso E' questa Eh, come c'era? Oh, forse ce ne manca una Per aver si prende la pistola Beh, anche l'altro gioco Però Se si ritorna Ethan E se si usano i pauli Una volta E se si usano i pauli In una volta Vai E se si usano i pauli E' questo Lo proiettiloni Oh calma eh, con calma Ma non l'avevi tutto Oh merda vai ma corri porca Sei morto Che cazzo c'era? Guarda ma cosa faccio? Guarda cosa c'è sulla porta Vai via vai Guarda da che parte va? Aspetta dove c'è pronto Però laggiù Vediamo dove porta questa scala E' il bambino E' il bambino E' il bambino ma si sconfondi? si capito? giusto i sette dai che cazzo si fa? capi ma c'è lui era andato di la era proprio come di chi è andato in quell'altra sezione vado? qua c'è dietro esce così da vado e allora dov'è? vai dietro facciamo via sta aprimo l'aeroporto ti dici andi all'incubo di la con siti sopravvistuti stanno ancora soffrendo puoi vedere aspetta quindi di la comunque cosa c'è? qui in questo modo dove vi vede? ecco la pastiglia no ho figlio la pastiglia? no no allora dov'è? qui 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 chiudi oh c'è mamma mia però sono dei pezzi di merda perché non era così scontato entra qui dentro anche perché nell'altra linea non c'entravamo c'entravamo e non c'era nemmeno da perché poi mi ha detto che il capitano dove era era su guarda però devi entrare nell'ascensore e vado vado di mezza e poi c'è da prendere ora c'è da prendere il fusibile il cavo c'è da prendere e bisogna stampare e bisogna stampare a tutti tanto che è un installatore ma anche tu un installatore e niente bisogna essere uguale o oh porca troia ti è rimasto morto non è già la puttana mi ha fatto pigliare un colpo dai sei quasi da sperpa ti puoi spiegare da sperpa dov'è dov'è il salvataggio v ma io qua bombe ce l'hai? si se apri ce la metti eh ma ce n'ho due ma aspeccarla per lui la bomba ma qui c'è gambe ma qui c'è gambe no no questi vengono i livelli che è stata no quelli quelli ci aveva anche zappato ah no scappiamo dove la puoi scappare dove scappavi dove scappavi eeeh devo andare lì mi devo buttare oh cosa vabbè va ma dov'è? è qui sapevo madonna mi curo no beh scarica il massimo è il massimo non c'è il massimo quindi siamo a te quindi io esco di qua destra e salti non mi fa starire ah oh ora puoi anche morire ho fatto una bella sessione è noiosa questo qua poi c'è un altro gatto dunque mo no 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 che sento che bisogna andare era al te che era eeeh in femmeria no cariore sono qua è andata laggiù eh c'era la pena è fusibile però eh c'è giusta l'ascensore eh ma c'è l'ascensore via 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 ma in dirige le bombe ma io mi curio è l'ultima no infatti c'è da fare anche qualcosa ti faccio un'altra eh? è comoda te? ti bastava una? ti stacco allo tu prima di arrivare al computer e loro partono quando arriva al computer tu ci ha avuto una bomba? eh questo che vuoi dire metto V vettila dove la vedi dall'angolino la vedo V aspetta oh merda hai preso? aspetta buono buono cazzo hai preso vettila oh merda vettila ti staccio che c'è? ma porca troia mi allontano ma qui che c'è anche l'altro mi piace quanto ci vuole è così ma che lo ritrovi di là guarda 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 Grazie a tutti. Che beccolo! Ma puttano! Non male se le gatti! Ma se le ciamine! Ancora? Ha rotto il campo! Che cavo si è presto! Manca è possibile! Devi andare qui! Qui dove c'era la vegetazione! Perché ora è calato l'ascensore e si può stare lì nell'ascensore. Prima era si poteva passare solo dalle scale. Più che altro è possibile... Non avevo idea! Non è qui! Si chiude! Ma dici ora si può salire dal... Semi! Semi! Sì! Quella porta è in fu... Scusami! Possibile! Puoi riusciare a portare... Torno! Troppo la porta è chiusa! Sì! Sì! No! Oh! In vita! Oh! Vedi? Vai! Apri le scatole! Puoi bucarti i palloni! Ragazzi! Poi arrivano le ascezioni! un po' di questo un po' di nuovo beccato, beccato oh poia questi un li spacchi la testa via 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 giaccelo alla prima eh ventiduesimo premio io non dire meno male perché me ne avevo il dubbio non è così rispondati a questa casa guiccola quale quale gu gu dobbiamo andare? più vasto e salva ma chi se ne frega è già morto a quest'ora cosa che vuole? oh ma ti piacere ho un proiettile nel culo ma non mi posso così ma però ti sto dire non stai dove vado? comunque prendono il fusibile e stai si 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 è buona idea l'altro oh che cielo cosa c'è? l'ho venuto l'ho venuto ma ce l'ho fatto no ma ce l'ho fatto no cortello bravo punto tosto fa qualcosa tipo cura agonistori tipo fara cura almeno mi sembri basta si si prende subito non me lo fa vedere faccio? faccio? si questa è una l'ho di passerezza fa un po' più alto dipende come ci prendi per l'altro si che c'è? ne vedo uno guarda bello guarda bello ma è che faccio? è finito? vado a prendere la roba poi apri quella porta dai questo ci fanno prendere la pistola si ma va si ma va guarda qua lì lì tu perché mi fa c'è qualche casino con la cartetta e la... cazzo se non ho più pernazio cosa ti fa? ho bisogno che tu faccia una cosa per me vai va Ethan? Ethan? no lo so non ti farò male non te ne avrei mai fatto se avessi potuto che vuoi dire? non sono un maniaco e non lo sono nemmeno Margherito o il mio piccolo Lucas e nemmeno Zoe quella Evelyn è colpa sua che cosa diavolo è? cosa vi ha fatto? ci ha infettati con il suo dom è così che lo chiama l'ho trovata tra i rottami di manave nel bagno poi tutto è cambiato ti infetta e controlla le tue azioni no? non proprio figlio lei penetra dentro la tua mente nella tua anima non puoi opporti lei lei diventa una parte di te e... e non puoi più resistere al bisogno di... ti trasformi in qualcosa di diverso come con Mia mi ha contattato perché è spinta da Evelyn ascolta ascolta quella ragazzina vuole una famiglia è lei la chiave capito? tu devi trovarla e fermarla e... devi liberarci ti prego ti liberiamo protesta autosalva per tu mh eh? non c'è tempo tieni prendi questo cos'è questo? non riescerò a resistere ancora lungo mia no no mia no no vai via 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 e dove voglio? uccidio 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 quella traia uccidio 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 un po' il fame e un po' il patto un po' il fame e un po' il patto oh! poi viene una seduta eh anche te però eh oh! video che fa male ho fuggiato così a 2000 non ho fatto niente perché è firmato ma fuggiamo amore tranquilla tutto a post dai un DJ tel se passa tutto vai hai detto nulla Ray ma perché mia perché ok l'urita mocciosa infame dove cazzo sei? boss finale e poi ce l'hai fatto tu no dai chissà è Grazie a tutti.